E' stato il ministro dell'interno e il capo della polizia a inaugurare questa mattina qui a Sansevero il reparto prevenzione ai crimini Puglia 71, il nuovo reparto d'elite della polizia di Stato, 72 tra uomini e donne che saranno sul territorio per contrastare ogni forma di criminalità. Una promessa che aveva fatto il ministro anche all'indomani dei fatti di San Marco Illamis l'agosto scorso, ma allora ascoltiamo le interviste realizzate questa mattina. Oggi è una giornata importante perché segna una vittoria dello Stato, lo Stato vince anche quando si predispone a prevenire il crimine, anzi soprattutto in questi casi. La istituzione reparto prevenzione ai crimini nel territorio di Sansevero è quindi un punto a favore dello Stato perché da oggi le cose cambieranno, anzi sono già cambiate con questa istituzione di questa importantissima struttura di polizia. Il produttore in Capitanata è un'emergenza sotto l'aspetto della criminalità organizzata, soprattutto pensando a Vieste? Io non ragiono mai in termini di emergenza che è un po' uno stereotipo. C'è una presenza criminale di criminalità organizzata molto importante, purtroppo anche tradizionalmente presente, quindi non è un'emergenza in quanto è un fatto endemico. Si tratta però di fare le scelte coraggiose, scelte di rottura anche della presenza di queste formazioni criminali sul territorio e credo che questa di oggi, l'istituzione del reparto anticrimine, sia una scelta coraggiosa, importante e foriera di risultati positivi. La risposta dello Stato a questo territorio, che forse come ha detto il Ministro in passato non era stato all'attenzione di tutte le istituzioni come avrebbe dovuto essere, ma oggi sicuramente si può dire che Foggia è un pezzo d'Italia importante, che la Repubblica considera fondamentale restituire alla legalità, restituire ai propri cittadini e quindi grazie a tutti coloro che hanno fatto la loro parte, credo che siamo stati in molti a partire dalla Commissione che ho avuto l'onore di presiedere, la magistratura e il Ministro degli Interni al quale dobbiamo riconoscere una capacità decisionale che forse mancava da molto tempo nel nostro Paese.